Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se ascolti queste letture la mattina, ti auguro una buona giornata. Se le ascolti alla sera, spero che tu abbia avuto una buona giornata. Oggi leggeremo la conclusione del capitolo 16 di Matteo sempre e andremo fino al capitolo 17, versetto 8, sempre dalla Bibbia della gioia. Da allora in poi Gesù cominciò a spiegare ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme informandoli di ciò che gli sarebbe accaduto in quella città, che avrebbe sofferto nelle mani dei capi giudei, che sarebbe stato ucciso e tre giorni dopo sarebbe risuscitato di nuovo. Ma Pietro lo prese in disparte per protestare. Voglia al cielo, Signore, gli disse che questo non ti capiti mai. Ma Gesù si voltò verso di lui e disse, Vattene da me, Satana. Per me tu sei un ostacolo, perché stai ragionando da un punto di vista umano, non da quello di Dio. Poi Gesù disse ai suoi discepoli, Se qualcuno vuole seguirmi, smetta di pensare a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Perché chi pensa a salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a dare la sua vita per me, la ritroverà. Che vantaggio ne avete se guadagnate tutto il mondo e perdete la vita eterna? Che cosa può essere paragonato al valore della vita eterna? Perché io, il figlio dell'uomo, verrò con i miei angeli nella gloria di mio padre e giudicherò ogni persona secondo le sue azioni. Alcuni di voi qui presenti in questo momento non moriranno finché non mi avranno visto venire nel mio regno. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni e li condusse sulla cima di un alto monte, in un posto isolato. Davanti a loro occhi l'aspetto di Gesù cambiò, il suo viso risplendeva come il sole mentre i suoi abiti diventavano di un bianco abbagliante. Improvvisamente apparvero Mosè ed Elia che stavano parlando con Gesù. Allora Pietro disse, Signore, è meraviglioso stare qui. Se vuoi farò tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Ma mentre stava ancora parlando, una nube luminosa li coprì ed una voce dalla nuvola disse, Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono immensamente compiaciuto. Ascoltatelo. A queste parole i discepoli caddero a faccia a terra, terribilmente spaventati. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, Alzatevi, non abbiate paura. E quando alzarono gli occhi, videro che con loro c'era solo Gesù. Wow, che sberla morale per Pietro, che precedentemente era stato elogiato da Gesù per la sua dichiarazione di fede. Vi ricordate, tu sei il figlio del Dio vivente. Ed ora invece viene comparato a Satana. E questo rivela anche i nostri sbalzi. Un momento siamo in cima alla collina spirituale e poco dopo sprofondiamo nella valle. E parlando di sprofondamento, la frase successiva di Gesù ci fa riflettere molto. Se vi ricordate, l'ultima tentazione di Satana nei confronti di Cristo fu proprio l'offerta di tutto il mondo se avesse adorato Lui. E tanti di noi sono tentati allo stesso modo e cadono facilmente nella trappola dell'affluenza. Un giornalista chiese a John Rockefeller, l'uomo più ricco al mondo all'inizio del secolo scorso, quant'è abbastanza? E lui rispose, un dollaro in più. È triste vedere come la sete di potere, di fama, di ricchezza non conosca limiti, o meglio dire, un sano equilibrio. Quando ero convolto nel mondo dell'alta finanza, ho visto persone come Rockefeller, coloro cioè che in un certo senso hanno conquistato il mondo, ma allo stesso tempo erano completamente bancarotti spiritualmente parlando. E che triste realtà che le aspetta per una vita eterna. Ora, la trasfigurazione. Forse il vero miracolo è il fatto che Gesù celasse la sua vera identità tutto il tempo su questa terra. Eccetto qui e forse anche nel giardino di Getsemani, quando vi ricordate le guardie caddero a terra quando Lui ha pronunciato Io sono. Giovanni successivamente scrive Abbiamo visto la sua gloria. E invece Pietro scrive Siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Cristo ha detto ai Suoi della sua fine imminente e penso che sia stato un atto di incoraggiamento mostrar loro chi fosse affinché non si scoraggiassero dell'imminente destino. Ora, non so come abbiano fatto a riconoscere Mosè che è morto circa 1400 anni prima o Elia che è stato rapito in cielo 900 anni prima di questo evento. E forse magari parlando uno con l'altro hanno pronunciato i loro nomi non lo so. Il fatto però che Pietro abbia detto facciamo tre tende una per te una per Mosè ed una per Elia. Era un commento senza pensiero senza logica forse proprio perché era completamente sorpreso. Mettere Cristo allo stesso livello di Mosè ed Elia non ha nessun senso. E tant'è vero che il Padre interviene. E' interessante anche il fatto che davanti a un evento soprannaturale così potente non si siano buttati a terra subito ma lo hanno fatto quando hanno sentito la voce del Padre che proclamava la grandezza di Gesù. Ora perché Mosè ed Elia? Possibilmente perché rappresentano la legge Mosè ed i profeti Elia cioè la completezza delle scritture dell'Antico Testamento. Padre abbiamo appena letto che anche guadagnando tutto il mondo e perdendo la nostra anima non c'è nessun guadagno. Allora fai sì che le nostre priorità siano sempre in relazione a quello che Tu vuoi nelle nostre vite. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Caro amico o cara amica la parola di oggi è priorità. Ricordati anche se guadagni tutto il mondo e perdi l'anima non serve a nulla. Ciao.